Tutto questo è accaduto mentre stavamo registrando un video innocente Questa volta abbiamo avuto veramente, veramente paura 7 luglio io e Zerbi andiamo a registrare un video di geocaching in una parte sperduta di Milano L'app serve a trovare tesori nascosti in giro per il mondo e io ne avevo trovato uno veramente perfetto in questo luogo E' da questo momento che parte la ricerca dell'oggetto segreto Allora eccolo proprio qui il nostro geocaching Ma che non sapevamo ci avrebbe portato in una brutta situazione Ogni indizio che trovavamo ci portava sempre di più ad esplorare questo quartiere Che noi pensavamo fosse qualcosa di tranquillissimo, non avremmo mai immaginato che fosse proprietà privata Anche perché non c'era scritto da nessuna parte Qui c'è un paio, oh oh, allora secondo me qui c'è venuto qualcuno zio perché c'è lo spray C'è tipo una lattina morta Eh zio ti pare che di questo di la casa lascia lo spray anti insetti qui Abbiamo continuato a girare all'interno di quest'area per circa una mezz'oretta Oh che c***o di animale è zio? Che c***o Ma è lì? Ma c'è una vespa grossa così? E' sceso un sottomarino da quell'albero Guarda lo vedi su quel palo sotto? Quanto è quotato che cade dentro al fiume? No no questo raga, sono sabbie mobili zio Ma stai facendo fra? Ma è stato dopo aver cercato di attraversare il fiume che di fianco a noi arriva una macchina Allora vaga venite qui, qui hanno messo delle foto Guardate qua Sarà qualche cazzata sicuramente No Dove c***o hai visto le foto? Vedi dietro? Ragazzi cos'è stato facendo? È un video per youtube Ma questa è una zona privata, voi più non ci potete stare Perché no? Perché no? Perché è proprietà privata Ah tutto questo è proprietà privata? Tutto questo è proprietà privata Lo vedete? Questo è il classico sorrisetto di Zerbi che fa intendere Ok il video ormai è saltato Mi state divertendo? Sì E qui succede una cosa veramente veramente estrema Orco tu Che c***o No 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 Preso dal panico non ne avevo idea di cosa fare Avevo notato che in lontananza dietro di noi c'era un altro uomo Sceso dalla stessa macchina che stava arrivando con delle manette Io ero senza parole No no che c***o sta dicendo Ed eccolo qui È tornato lo stesso sorrisetto di Zerbi Che data la situazione così assurda Stava pensando che fosse uno scherzo Ma vi garantisco che cambierà presto idea Io ho preso dal panico Ho immediatamente detto al cameraman di smettere di riprendere Cosa che ha confermato pure il tipo che ci stava puntando una pistola Lui a suo rischio di nascosto ha continuato a riprendere Ma guarda che stai facendo un video per youtube Ma perché c'è un'applicazione Sentite la mia voce tremava Un'applicazione Il mio battito era a mille Non sapevo cosa sarebbe successo da lì a poco Ma con calma cerco di spiegargli cos'è questa applicazione Perché eravamo lì Dove te trovi tipo dei robi e dei cosi Degli oggetti Degli oggetti Qui Zerbi cambia espressione Ora ha capito che questa situazione assurda è seria Cosa sono i cosi? Dei robi dove devi scriversi un foglio di carta Continuava a guardare me e il cameraman negli occhi Ma il nostro sguardo era pieno di terrore Spostate lì Qui ci fanno spostare a bordo strada Perché a quanto pare un'auto che non c'entrava nulla Con loro doveva passare Queste auto che passavano erano la nostra unica ancora di salvezza Ma purtroppo non si fermava nessuno Vabbè Vabbè è un po' esagerato Quindi Ecco l'auto che è arrivata adesso in sgommata È la macchina del complice Un uomo che non aveva mai parlato Non l'avevamo mai visto in faccia La cosa che però mi faceva pensare Anche in quel momento È che entrambi erano senza passamontagna Non avevano paura di farsi vedere da nessuno E ben presto scopriremo perché Mettete le mani dietro la testa Qui ci hanno chiesto di mettere le mani dietro la testa In posizione per metterci le manette Qui chiaramente il cameraman ha potuto riprendere quello che poteva Perché già stava facendo una ripresa di nascosto Se si fosse fatto sgamare Saremmo passati veramente nei guai Ecco lo sentite? Questo è il suono delle manette che sta portando il complice E come Zerbi ha sentito questo suono È impazzito Ha fatto una mossa che nessuno si sarebbe mai aspettato Forse una delle più grandi cazzate della sua vita Ha deciso di scappare Per non farlo andare via L'han tenuto talmente forte Che gli si è strappata la maglietta Ma chiaramente in quella situazione Non potevano sparargli Perché telecase intorno E le macchine che passavano avrebbero visto la scena Non so se ha fatto la mossa giusta Ma sicuramente ha fatto una mossa pericolosa E veramente veramente rischiosa Quindi ora io e il cameraman eravamo a terra Con le mani in testa Zerbi era disperso nella foresta Senza contatti Telefoni in modalità aereo Per non farsi rintracciare da nessuno Stava correndo fortissimo E mo' che cazzo facciamo noi Incazzatevi 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 Ma aspetta ma perché ho appena parlato con il rapitore Forse perché tutto questo È uno scherzo Teste di c***o Tre ore prime infatti Ero con gli stessi rapitori Nello stesso posto A fare le prove tecniche per lo scherzo Ma direi che come luogo va bene Siamo un bel po' in mezzo al niente E vi starete chiedendo come ho ottenuto le pistole Le pistole costano 30 euro su Amazon Non hanno il pallino rosso E sono impossibili da distinguere Cioè fuori di testa Sembra un botto vera Infatti tra poco saranno proprio le pistole Che ci porteranno nei guai seri Ma seri Anche le macchine che passavano Naturalmente facevano parte della scena Beh ma c'era un piccolo particolare Zerbi tutto questo non lo sapeva Ora il problema era che lui era scappato E non ne avevamo idea di dove fosse Volevamo far continuare lo scherzo Quindi uno dei complici Decide di salire in macchina E andarlo a cercare in qualche modo Mi incappucciano In caso Zerbi ci stesse ancora guardando da lontano Per non far capire che era uno scherzo E andiamo verso la macchina Il problema è che Zerbi A quel punto era talmente impaurito Che era andato davvero tanto lontano Lo chiamo? Continua a puntarmi la pistola Continuate a puntarmi la pistola Sempre L'unico modo per capire dove fosse Era chiamarlo al telefono Fingersi tanto impauriti E farlo tornare indietro Ascoltami Ascoltami Te lo chiedo veramente per favore No non torno Dimmi se sono scazzo di m***a Te lo chiedo veramente per favore Frate devi tornare qui Te lo chiedo veramente Non lo so Zerbi impaurito era irremovibile Quindi a questo punto Uno dei complici Fa una cosa assurda Non c'era niente da fare E Zerbi non tornava indietro Quindi a questo punto Dovevamo essere ancora più convincenti E' uno scherzo oppure no? Non è un c***o di scherzo Non sto neanche riprendendo Lo capisci? No Non è uno scherzo Non è uno scherzo E non c'è un carabiniero E manco il tempo di dirlo Che accade l'imprevedibile Le case intorno Vedendomi con una pistola puntata Hanno immediatamente chiamato i carabinieri Che sono arrivati pretendendo Non poche spiegazioni Ma i carabinieri a questo punto Hanno iniziato ad innervosirsi ancora di più Ecco forse questa frase Potevo anche risparmiarmela Qui i carabinieri ci perquisiscono Perquisiscono l'auto Fanno un sacco di chiamate Di controlli Ci prendono i documenti Ci fanno delle ramanzine assurde Per poi non fare nulla Perché effettivamente Quello che stavano facendo Non era nulla di illegale Certo magari avvisarli Sarebbe stato un'ottima mossa Però come fai a avvisare Tutti i carabinieri? Vabbè Cioè Surya C***o che non me l'aspettavo Ma Luca dove c***o è? E' vero raga Zerbi Ci siamo dimenticati di Zerbi Per lo spavento Che ci siamo presi Dall'arrivo dei carabinieri Non l'abbiamo più cercato E' andato lontano Sì ma è andato di là E' andato lontano A questo punto Dato che la situazione Stava veramente degenerando Abbiamo deciso di chiamare L'unica persona A cui Zerbi Avrebbe dato la posizione In tempo reale Per farsi venire a prendere Ok La posizione di Luca E' questa qui E' su una strada C***o C'è E' andata Ho capito dov'è Ho capito dov'è Noi siamo qui Via Cascina Ranca No zio sono un po' curioso Via Cascina Ranca E volete sapere Quanto lontano è andato Zio Guarda dov'è E' a 19 24 minuti a piedi Ma non ha Cioè non ha fatto altro Che correre Ma quanto c***o Si è allontanato Non ha fatto altro Che correre Cramoroso Cramoroso Cioè sapete cosa Significa questo Zerbi era talmente Spaventato Che nell'arco di un quarto D'ora è riuscito a correre Due chilometri e mezzo Sto per chiamare suo padre Andre Andre E' successo E' successo veramente un casino A questo punto Volevo un attimino Chiamare il padre Per avvisarlo Della situazione Luca è scappato Adesso non so dove c***o sia E' lontano Ma Ha una maglietta strappata Sono arrivati i carabinieri Io sono qui con i carabinieri E davanti a un bombardamento Così forte di informazioni Quale mai potrà essere La sua reazione Allora Facciamo Continuiamo lo scherzo Il più possibile E' una maglietta strappata E' una maglietta strappata E' una maglietta strappata E' una maglietta strappata Alla pistola Venire verso di te Minchia quanto c***o E' impanicato zio E' impanicato Sei praticamente spacciato Luca mi sta chiamando Mi sta chiamando Ora non gli rispondo Non gli rispondo Fino a quando poi Non arriva Una pessima notizia No Luca mi ha scritto La mossa di mia mamma Sbagliatissima E' uno scherzo palese Ora mancava solo D'andarlo a recuperare Testa di c***o Oh Oh Vieni fuori Vieni fuori E finalmente Dopo un altro quarto d'ora In giro a cercarlo Lo troviamo Voi non ne avete idea Di dove si era cacciato Eccolo eccolo Guardalo guardalo Assurdo L'abbiamo ritrovato Assurdo Assurdo Ma quanto hai c***o corso Te non hai capito Che c'erano i carabinieri qui Te non hai capito Che sono arrivati i carabinieri E' perché zio Tutte le macchine Hanno chiamato i carabinieri Tutti hanno chiamato i carabinieri Zio ci ha visto incappucciati Te ti sei c***o addosso 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 Te eri là giù In c***o Non hai capito Dove c***o ero io No 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 Pensate quanto sei c***o addosso Io non ero laggiù Io ho detto Vado lì in fondo Perché ho detto Qui c'è il passaggio per domani Dove loro non possono passare Allora passo da questa parte qui Così loro con la macchina Non possono venire Capito Posso dire che hai avuto Le palle di scappare da uno Con la pistola Hai avuto le palle Di scappare da uno Con la pistola Ma non è uno scherzo Oh Sono incredibile o no loro Mi potevano gambizzare No però quello che ho pensato io è Qui con le case Non spareranno mai Quindi ho detto Buon scappo Tanto o mi seguono Non spareranno mai Quello che ho pensato io Non spareranno mai Non spareranno mai Non spareranno mai Non spareranno mai